Salve a tutti, oggi proseguiremo il nostro tour adentrandoci nella natura del parco regionale. Il parco regionale Verkei è il più piccolo tra tutti i parchi regionali della Lituania. Esso è stato istituito nel 1992 per proteggere i complessi naturali dei laghi verdi, i complessi culturali del palazzo Verkei ed altri complessi di valore. Dopo aver lasciato alle nostre spalle il Verkei Palace, ci dirigiamo verso la terrazza panoramica. Percorrendo il sentiero possiamo osservare diverse specie di piante, tra cui il tiglio, la quercia e l'arice. Piante longeve che prediligono quote elevate e climi temperati. In qualche albero è possibile notare particolari decorazioni a scopo ornamentale. Alla fine del sentiero si giunge ad una terrazza di modeste dimensioni, che si affaccia sul fiume Neris, mostrando una vista panoramica spettacolare. Questo luogo consente ai turisti di poter ammirare il fiume in tutta la sua bellezza. Infatti la profonda valle del fiume, con le sue strisce luminose di pendì a terrazza, ha una struttura eccezionale ed una vista meravigliosa. La valle su cui sfocia il Neris è molto antica ed è stata erosa dalle correnti d'acqua. Dopo aver attraversato il territorio del Parco regionale di Verchei, potete continuare ad ammirare i panorami della natura e dell'urbanizzazione nella città di Vilnius. Per oggi è tutto, vi aspetto al prossimo video. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.